Zanzare, insetti, gatti. Non si è in prossimità di un fiume o di una discarica, ma l'Umberto I di Nocera Inferiore. Con l'avanzare dell'estate vengono segnalati numerosi disagi dalla struttura di Viale San Francesco. Il presidio sarebbe bersaglio delle zanzare, una concentrazione di insetti visibile in prossimità dei vani ascensori nelle aree che si affacciano sul cortile interno, diventato un cantiere perenne e malsano. Alcune perdite d'acqua fanno stagnare il prezioso liquido, generando muffe, un habitat perfetto per mosche e zanzare. Inoltre, l'incivetta di parecchi utenti lo ha fatto diventare una specie di discarica. Sono migliaia e mozziconi di sigarette accumulati insieme a cartacce e bottigliette di plastica vuote. Ai cestini si preferisce lanciare le cose dalle finestre delle sale d'attesa. Un'abitudine vergognosa, ma difficile da sradicare. Il lancio della cicca, infatti, è uno sport particolarmente diffuso. Basta per lustrare l'intero perimetro dell'ospedale per rendersene conto. A questo problema di pulizia si aggiunge la presenza di gatti. Si sarebbe creata, infatti, una colonia felina sul tetto del pronto soccorso, all'altezza di quella che doveva essere una casa materno-infantile collegata ai reparti di ostetricia e pediatria. Molti utenti hanno segnalato la presenza degli animali, incentivata anche in questo caso dalla poca disciplina di ricoverati e dei loro familiari. In tanti, infatti, lanciano del cibo sul solaio del pronto soccorso o addirittura lo lanciano sui balconi. Una situazione paradossale che si ripeterebbe anche al pian terreno, nell'area delle ex cucine. C'è inoltre chi ha visto in giro qualche topo, anche se la presenza di tanti gatti dovrebbe rappresentare un deterrente. C'è un'unica risposta per queste segnalazioni. Fare una profonda disinfestazione e derattizzazione.